Testa salivario di prossimità ai componenti della famiglia. Sono queste le soluzioni trovate dopo la richiesta dei genitori di evitare il tampone al Codma di Rosciano per i figli affetti d'autismo che frequentano i centri diurni. Infatti, dopo le lamentele e l'annuncio di procedere per vie legali, è stata trovata un'alternativa dalle autorità competenti in materia. Comprendiamo il disagio e le difficoltà affrontate, ha ribadito l'assessore al welfare Dimitri Tinti, e come istituzioni ci siamo impegnati a risolvere il problema. Dopo un confronto con il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, questa mattina si è riunito nuovamente l'OSES, l'unità operativa sociale e sanitaria, proprio per dare una risposta alle famiglie. Le soluzioni alternative, qualora il tampone o il cosiddetto test molecolare non fosse possibile, in alcuni casi critici, di patologia in base alla patologia e alla situazione clinica del singolo soggetto, è prevista la possibilità, due alternative, o il test salivare, che è un test nuovo che si sta sperimentando anche nella nostra area vasta, oppure il test di prossimità, cioè il test molecolare o tampone per i familiari o coloro che comunque sono a più stretto contatto con il soggetto in questione. Il tampone ricordatinti ad oggi rimane comunque il test più affidabile, come precisato anche da una nota del Ministero della Salute. Ora che cosa succederà? Quale sarà il compito anche dei vari centri? In risposta alla nostra richiesta che avevamo fatto a giugno, a firma mia come Presidente del Comitato dei Sindaci e a firma della coordinatrice d'ambito, la responsabilità sarà dei coordinatori dei centri di urni, dell'XR per disabili, che sentite le famiglie, nei casi appunto in cui ci sono delle forti criticità ad eseguire il tampone, si potranno indicare di poter fare appunto una delle due soluzioni alternative. Aggiungo che già nell'ultima seduta dell'Uoses era stato anche concesso la possibilità per i prossimi controlli periodici, perché qui stiamo parlando dei prossimi controlli periodici, di poter attivare l'USCA, quindi l'unità che prevede l'infermiere, il medico, sia nel centro, nella sede del centro, o se non è possibile anche addirittura a domicilio.